Un medico del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, Sebastiano Nocilla, 52 anni, è morto nella tarda mattinata di sabato a Pietra Persia nella sua campagna di Contrada Menta. Al momento dell'arrivo degli operatori del 118 e dei carabinieri, dopo una segnalazione, il suo corpo senza vita presentava ustioni in diverse parti, ustioni causate da fiamme di sterpaglie nella stessa zona. Non si esclude che il medico, prima di essere raggiunto dal fuoco, sia stato colto da un malore improvviso e fatale che non gli avrebbe lasciato scampo. Accertamenti per ricostruire l'accaduto sono stati avviati immediatamente dai militari dell'arma. L'ordine dei medici di Caltanissetta esprime il proprio cordoglio per la perdita del collega Sebastiano Nocilla e rivolge un pensiero anche ai familiari. Il presidente Giovanni Di Polito scrive, l'intera comunità medica nissena piange un collega preparato, disponibile, sempre con il sorriso tra le labbra. I funerali di Sebastiano Nocilla si terranno martedì alle ore 16 in cattedrale. Subito dopo la salma sarà trasportata al cimitero di Pietra Persia.